Questa mattina la delegazione della città di Anyang in Cina, guidata dal governatore Huang Jaijin, ha fatto tappa a Gallerate, dove il sindaco Andrea Cassani ha fatto l'onore di casa a Palazzo Borghi. Un primo incontro interessante e costruttivo, come è stato definito dal governatore cinese, e che ha messo le basi per uno scambio culturale e per future collaborazioni, senza dimenticare i possibili investimenti sul territorio galleratese. È un onore essere qui, ha dichiarato il governatore cinese, che ha definito Gallerate una città ben organizzata e tra le più pulite che abbia visto, oltre che riconoscerne la strategica posizione dal punto di vista logistico. Anche se questo è stato un primo incontro, si capisce che il sindaco è una persona pratica, di grande vedute ed ambizioso, ha concluso il governatore. La invito a visitare Anyang. Sono soddisfatto, conclude Cassani. Ora vediamo cosa può nascere da questo scambio di esperienze in termini di turismo, di business e di investimenti a Gallerate nei territori limitrofi.